Beh, verranno messi in piedi una serie di laboratori tesi a recuperare ovviamente per quelli che hanno ancora dei margini di recupero da un punto di vista terapeutico. All'interno della struttura sono ospitati in primis un grandissimo laboratorio di cucito con delle macchine di ultima generazione per poter lavorare dei tessuti duri del pellame e quindi li impegneremo in primis su questo laboratorio particolare. Poi ci saranno dei laboratori di pittura, teatro-terapia, abbiamo di fronte un maneggio per chi sarà in grado di poterlo fare, faremo anche dei corsi di ipoterapia per loro. Ci sono una serie di attività che sono state già programmate a favore di queste persone svantaggiate.